Sì, domenica arriverà il Trento e ci ricordiamo bene la squadra. È stata la prima partita di campionato, abbiamo subito due gol. Sicuramente dobbiamo fare molta attenzione, stare attenti ai dettagli e non dobbiamo mollare di un centimetro. Esatto, sono sicuramente squadre che devono fare punti e quindi noi dobbiamo fare attenzione e non prenderla sotto gamba e entrare in campo proprio con concentrate come abbiamo sempre fatto. Sì, sicuramente tutte noi abbiamo degli obiettivi e sicuramente uno di quelli è quello di subire meno gol e a fine campionato vedremo quale sarà la difesa meno battuta.